Io consiglierei Remax a tutti gli imprenditori che vogliano portare la loro professione al massimo delle aspettative di un cliente. Remax vuol dire Real Estate Maximum, ciò vuol dire che noi dobbiamo dare il massimo del nostro servizio. Remax rispetto ai dati franchising ha in più tutto quello che un cliente dovrebbe aspettarsi da un'agenzia immobiliare. Piani di marketing personalizzati, collaborazione con tutte le agenzie immobiliari, una rete internazionale e grande professionalità dei consulenti.